Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi della tastiera da gaming Rockat or Aimo, che potete acquistare su Amazon ad un costo di 100€. La tastiera, come potete vedere, si presenta davvero accattivante in termini di design ed è estremamente comoda. Ora, io provengo da una tastiera meccanica Rockat, di quelle vecchio tipo che avevano il poggiapolsi integrato direttamente nella tastiera e quando ho deciso di sostituire la tastiera perché oramai era vecchia, sono andato alla ricerca di una nuova tastiera. Ne ho provate diverse in questi giorni, come avete visto, però questa è l'unica tastiera che finalmente mi soddisfa. La tastiera in questione vanta un poggiapolsi che può essere rimosso, dopotutto oramai le tastiere le fanno tutte così. C'è chi ha il poggiapolsi, chi non ce l'ha, però sono tutti rimovibili. Non fanno più le tastiere tra virgolette di una volta o perlomeno io non sono riuscito a trovarle. Se andate su Amazon e scrivete tastiere, tastiere da gaming, economiche, costose e quant'altro, trovate tutte tastiere con il poggiapolsi che può essere rimosso. La tastiera in questione è un mix tra meccanica e membrana. È più membrana che meccanica. A differenza delle altre tastiere di cui vi ho parlato, come potete udire, il suono è questo. Praticamente la tastiera è veramente silenziosa, comoda da utilizzare, i tasti sono morbidissimi da premere perché è a membrana più che meccanica. Anche se su Amazon viene catalogata come membrana meccanica, cioè nel senso tutte e due le cose. Però è più membrana che meccanica e vanta tasti come potete vedere molto ridotti. A differenza delle altre tastiere, adesso ve lo mostro meglio, i tasti sono praticamente ridotti all'osso e ciò li rende davvero comodi. Io personalmente l'ho criticata questa tastiera dalle immagini, ho detto ma probabilmente sarà anche scomoda e invece vi posso assicurare che è comodissima. E io provengo da una tastiera meccanica Roccat, di quelle che fanno clic clac clic clac, belle massicce, con i tasti che sporgono fuori e sono così. Quindi diciamo il passaggio a questa tastiera mi aveva lasciato inizialmente un po' perplesso, però vi posso garantire che è comodissima. La tastiera presenta questo supporto dove potete poggiare lo smartphone o qualsiasi altra cosa. Praticamente va agganciato un altro supporto qui che non ho visto nella confezione e vi permette di avere magari il telefono, il tablet o quello che sia a portata di tastiera. Presenta i tasti funzione in alto che sono i classici tasti che permettono di spegnere e accendere la tastiera, cambiare luminosità, effetto RGB, aumentare e diminuire il volume eccetera eccetera. Inoltre la tastiera è USB, non è wireless, quindi trovate il cavo già connesso, USB classico, quindi la collegate al computer e grazie alla tecnologia plug and play siete pronti ad utilizzarla fin da subito. Lati negativi di questa tastiera ce ne sono. Il primo lato negativo è che come potete vedere il mouse ha un led pazzesco, cioè già con tutta questa luce in camera si vede così, la tastiera praticamente al massimo della luminosità non si vede quasi nulla. Se spegnete la luce sì, diciamo di sì, però alla luce del giorno si vede poco e niente. Avrei sinceramente installato se fossi stato in Roccat dei led un po' più forti. Però questo non è un problema tecnico, alla fine è solo una questione estetica. Un altro problema, però un problema di pochissimo conto alla fine risiede nel fatto che la tastiera vanta, vanta poi, ha un layout non italiano. Cioè nel senso che sì, come vedete i tasti sono tipici italiani, ma vi capiterà magari di premere una combinazione di tasti e di ritrovarvi su schermo qualcosa di diverso. Perché il layout è diverso, cioè è americano, anche se diciamo i classici tasti sono poi posizionati nel modo corretto. Ma è una questione di abitudine alla fine perché una volta che vi abituate a scrivere con questa tastiera non ci fate nemmeno più caso. La tastiera, come potete vedere, presenta una rotella. Sinceramente pensavo che aumentasse e diminuisse il volume, anche perché molte recensioni dicono questo, ma in realtà non fa questo, perché funziona da mouse. O meglio, dipende dove vi trovate. Funziona sia da mouse che da volume. Quindi non funziona, diciamo, principalmente per il volume e basta. In alcune pagine, tipo su Facebook, io mi sono ritrovato a scorrere con la pagina tramite questo pulsantone, questa manopola. Ovviamente se installate il software ufficiale della Roccat potete configurare i tasti come volete. Potete assegnare naturalmente a questo qualcosa di differente a seconda delle vostre esigenze. Potete cambiare anche il tipo di luce, il tipo di effetto, se avere luce fissa, luce fatta tipo a onda e così via dicendo. Insomma, grazie al software poi potete personalizzare completamente la tastiera, soprattutto con le macro. Come potete vedere vanta 5 differenti pulsanti per le macro. In altre parole potete avere fino a 5 configurazioni differenti per i tasti della tastiera. Quindi magari se configurate questa tastiera per i mobile in un certo modo, per gli fps in un altro, per il lavoro in un altro, eccetera, premendo questi pulsanti passerete da un profilo all'altro. Una caratteristica che Roccat ha sempre avuto, anche in passato, sulle vecchie tastiere era presente ed è una funzione molto gradita. Una piccola nota negativa risiede nel fatto che la mia vecchia tastiera Roccat, che era meccanica, era molto alta. Questo perché i supporti laterali, questi qui, che permettono praticamente, non so se li vedete, adesso giro la tastiera, questi qui, che permettono di tenere la tastiera alzata, sono più corti rispetto altre tastiere, che magari ci sono alcune tastiere che vi permettono di alzarla in questo modo qua. Però non è proprio una cosa negativa perché la tastiera è davvero comodissima. La sto utilizzando da un po' di tempo e vi posso dire che è comodissima, i tasti sono morbidi, silenziosi, può essere personalizzata e configurata completamente tramite il software ufficiale Roccat. È figa, ragazzi. È bella esteticamente, è silenziosa, comoda. Ha un costo di 100€, questo è vero, ma se siete alla ricerca di una buona tastiera, questa sicuramente fa il caso vostro. Se non optate per la full meccanica, nel senso che se siete alla ricerca di una tastiera completamente meccanica, questa ovviamente non fa per voi, non fa al caso vostro. Se la membrana vi piace e vi ci trovate, allora questa è una tastiera che fa sicuramente al caso vostro. Se siete interessati all'acquisto, la trovate su Amazon ad un costo, come vi ho detto, di 100€.